Ciao a tutti, io per il momento continuo a rimanere a casa ma continuo anche a raccontare e oggi vi voglio raccontare di una figura che per Torino veramente è stata molto importante. Ve ne ho accennato qualche video fa quando vi ho raccontato del miracolo del Corpus Domini in quanto all'interno della chiesa, l'altare a destra, opera di Filippo Juvar dedicato a San Giuseppe, vede la presenza di una statua che ricorda la figura di San Giuseppe Cottolengo e davvero questo è stato uno dei santi precursori dei cosiddetti santi sociali, c'è quella serie di figure che nella seconda metà del 1800 hanno dedicato la loro vita all'aiuto, al supporto per gli ultimi, da San Giovanni Bosco che si occupava dei bambini lasciati per strada, a San Giuseppe Caffasso che invece si occupava dei condannati a morte. Molti personaggi hanno appunto voluto dedicare la propria vita alle esistenze di persone che in realtà la società non considerava assolutamente degne di essere oggetto di riguardo. Bene, prima di tutti è arrivato appunto San Giuseppe Cottolengo, nato alla fine del 1700 a Brà di origini provenzali e vissuto nella sua giovinezza durante la guerra, la rivoluzione francese e poi anche durante l'epoca napoleonica e proprio per questo i suoi primi studi in ambito religioso sono avvenuti in clandestinità non essendo in epoca appunto napoleonica riconosciuta, riconosciuti gli ordini religiosi. Quando poi riesce a ottenere ufficialmente i titoli presso il seminario di Turino celebrerà proprio la prima messa a Brà ma si trasferirà poi appunto nella capitale e servirà messa per l'appunto nella chiesa del Corpus Domini. Poteva considerarsi a posto diciamo che era arrivato ma in realtà lui si sentiva non completo, studiava gli scritti di San Vincenzo de Paoli ma un incontro, un avvenimento sarà per lui veramente fondamentale, un avvenimento, un incontro che avverrà il 2 settembre del 1827 quando proprio mentre si trovava nella chiesa del Corpus Domini viene raggiunto da un uomo, un uomo che gli chiede di poter apporre l'estrema unzione alla moglie che sta morendo. Una donna, Giovanna Maria Gonnet, francese, al sesto mese di gravidanza malata di tubercolosi e questa sua condizione così particolare aveva purtroppo fatto sì che nessun ospedale la potesse accogliere né dove si curavano gli ammalati perché naturalmente non c'era la possibilità di assisterla per la gravidanza e anche dove invece c'erano le donne partorienti perché naturalmente la sua condizione avrebbe potuto contagiare anche le altre degenti e anche i bambini. Ecco allora che si ritrovano questa famiglia perché naturalmente c'erano già degli altri figli in una stalla, nella stalla dell'albergo Doganavecchia non lontano dalla chiesa dove questo povero padre e marito disperato chiede almeno l'estrema unzione per la moglie e sarà proprio la morte tra le braccia di San Giuseppe Cottolengo di questa giovane madre che lo condurrà a realizzare la scelta di allestire un piccolo ospedale in due stanze e così inizia il Cottolengo la sua avventura, due stanze non lontane proprio della chiesa del Corpus Domini, ancora oggi rimane la memoria di questo che era chiamato la Volta Rossa perché vi era un arco che poi è stato abbattuto dipinto di rosso che ben presto, pochi anni dopo, già solo nel 1830, diventerà la piccola casa della Divina Provvidenza. un ospedale che oggi è una cittadella veramente vastissima ed è uno dei punti fondamentali per l'assistenza sanitaria qui a Torino che è nata appunto in due stanze per la volontà di San Giuseppe Cottolengo di trovare un luogo dove poter accogliere tutti i malati che non erano accolti negli altri istituti sanitari quindi veramente una grande memoria, un grande personaggio che è importante sempre tenere così ogni tanto a ricordo. Ancora buon pomeriggio a tutti e al prossimo video. A presto!